Mara Venier ha aperto l'ultima puntata di Domenica Inn in lacrime ricordando Pierfrancesco Forleo, dirigente Rai, nonché genero e marito della figlia Elisabetta Ferracini, morto due giorni fa all'età di 61 anni. Ecco le parole e lacrime di Mara Venier. Voglio aprire questa puntata salutando Pier, Pierfrancesco Forleo, è stato un importante dirigente di questa azienda che noi tutti amiamo tantissimo e lui la amava molto e si occupava di sport, ma per me Pierfrancesco Forleo era solo mio genero e io ero la suocera che mi ha chiamato per 18 anni. La conduttrice continua ancora e dice sapete il rapporto di sincerità e di onestà che io ho con voi telespettatori, quindi non posso fare a meno di cominciare ricordando chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia. Pier ci mancherai tantissimo, ha concluso la conduttrice lasciando la pubblicità, lanciando scusatemi la pubblicità tra i singliozzi e il dolore di questa grave perdita improvvisa.